ciao a tutti e benvenuti nella introduzione poichè mi sono dimenticato di farvi vedere ovvero di spiegarvi altre cose allora per prima cosa vi volevo dire che ovvero l'unica cosa che c'è da dire è che con 3ds max noi possiamo usare anche altri programmi appunto io principalmente uso per modellare silo silo 2 con quest'icona poi c'è blender photo filter non mi ricordo come si chiama softimage zbrush questo è molto importante perché zbrush presenta una maniera di modellazione totalmente facile che si va per sculpting ovvero come se tu stessi facendo una scultura quindi quella è molto importante e basta quindi ci abbiamo solo questi quattro programmi ovviamente ci possono essere altri importanti sono questi per il momento perché questi useremo forse in futuro va bene questo è tutto ci vediamo